Si riaccendono le speranze per gli oltre 100 ex lavoratori dei centri per l'impiego abruzzesi che chiedono alla Regione Abruzzo il riconoscimento degli anni di servizio nella procedura concorsuale. Nella giornata di ieri, venerdì 3 maggio, l'Unione Sindacali di Base con una delegazione di ex lavoratori dei centri per l'impiego ha incontrato l'assessore regionale del lavoro, Piero Fioretti, ed il consigliere regionale, Emanuele Marco Vecchio. C'è da dire che c'è stata da parte loro la massima disponibilità ad ascoltare le istanze di USB e degli ex lavoratori dei centri per l'impiego e hanno riconosciuto il legittimo diritto di questi lavoratori che per anni sono già stati impiegati nei centri per l'impiego che hanno superato già concorsi pubblici, quindi hanno visto riconosciute le loro competenze all'interno dei centri quei lavoratori chiedono di vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio nelle prossime procedure concorsuali che andranno a potenziare i centri per l'impiego e da parte dell'assessore c'è stata una disponibilità ad ascoltare questa richiesta. Ora vedremo se questa disponibilità si traduce in fatti concreti. Un'apertura da parte della Regione Abruzzo che voi auspicate possa essere intrapresa anche da parte di altri enti regionali di tutta Italia? Sì, purtroppo la condizione dei centri per l'impiego in tutta Italia è molto frammentata, molti lavoratori con condizioni di lavoro difficili e con datori di lavoro diversi. Noi crediamo che vada uniformata la procedura di selezione del personale in tutta Italia e auspichiamo che anche in altre Regioni si proceda come la Regione Abruzzo ci è sembrata e intenzionata a fare, ovvero riconoscendo l'anzianità di servizio a chi ha già lavorato nei centri. Piacerebbe che vedete tempi brevi, si può ipotizzare un termine così sommario? I tempi sono brevissimi perché già in estate molto probabilmente verrà bandita la prima procedura concorsuale per i primi posti, quindi crediamo che già da questo bando vada inserita l'anzianità di servizio, quindi siamo sul chi va là e crediamo che nei prossimi giorni ci saranno delle novità. Grazie.